LA Principessa Eugenie ha annunciato piani clamorosi per trasferirsi nel soleggiato Portogallo dopo che suo marito Jack Brooksbank si è assicurato un lavoro lontano dal Regno Unito, la coppia si sta ora dividendo tra Londra e un lussuoso resort in Portogallo dopo essersi trasferita fuori dal Regno Unito con il figlio di un anno August. Il marito della Principessa Eugenie da quasi quattro anni lavora per Casamigos, il marchio di tequila fondato dall'attore hollywoodiano Meldman Erande Gerber, marito della top model Cindy Crawford, che il trio ha venduto alla società di bevande. Diageo per 550 milioni di sterline nel 2017, dopo aver sposato Jack Brooksbank, il patrimonio netto della Principessa Eugenie è stato segnalato da E. La notizia sarà di 3,7 milioni di sterline, condivisa con suo marito sebbene il patrimonio netto individuale di Jack sia sconosciuto, si dice che Eugenie guadagni quasi 115 mila sterline all'anno dal suo lavoro presso la galleria d'arte di Londra Auserhurt. Celebrity Network ha stimato che il patrimonio netto di Eugenie fosse di circa 792.869 sterline, che secondo quanto riferito è esattamente lo stesso di sua sorella Beatrice. Il membro della famiglia reale si è trasferito nell'esclusivo Costa Terra Golf & Ocean Club nel sud di Lisbona, perché suo marito ha ottenuto un nuovo lavoro con il magnate immobiliare Mike Meldman, amico di George Clooney, Jack, che Eugenie ha sposato nel 2018, ha forgiato una carriera di successo nel settore dell'ospitalità. Secondo quanto riferito, sarà responsabile del marketing e della promozione del resort privato in Portogallo, che è attualmente in fase di sviluppo con 300 case. Mentre si trova nel Regno Unito, la famiglia di tre persone, che ha utilizzato Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor la casa del principe Ferry e di Meghan Markle nel Regno Unito vivrà all Ivy Cottage a Kensington Palace. Sebbene facciano parte della famiglia, la principessa Eugenia e sua sorella Beatrice non lavorano come membri della famiglia reale. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.